Patrizia Di Rocco, vent'anni dell'Associazione i colori dell'iride, un punto di riferimento per il territorio, tante cose fatte ma ancora tante le cose che avete in programma per le donne. Sì, questa associazione è nata appunto vent'anni fa e veramente ci meravigliamo di essere arrivate a questo punto. Le cose che abbiamo fatto sono tantissime, io rimettendo in ordine le carte ho visto che sono più di cento, soltanto i libri presentati e ogni anno abbiamo una media di 5-6 iniziative che sono pubbliche e nelle scuole. Noi eravamo un gruppo di nutrito di donne, 20 donne hanno firmato per far nascere questa associazione e negli anni abbiamo raddoppiato il numero delle iscritte e siamo sempre intorno a 40 e devo dire che queste donne sono tutte molto motivate e hanno sempre voglia di iniziative, di fare e di stare insieme. Quando le donne stanno insieme nascono anche delle belle amicizie e si sentono più forti e animate da uno spirito di sorellanza a cui noi teniamo molto. Perché siamo nate? Perché abbiamo riflettuto sul fatto che per le donne si faceva poco e che tante battaglie che ognuna di noi aveva combattuto, proveniendo anche da esperienze diverse, da culture diverse, con questo comune denominatore che era pensare a noi stesse e a dare valore all'essere donne e ai diritti che le donne hanno. Queste battaglie hanno portato a conquistare tanto, ma tutto è messo in discussione. Lo era già 20 anni fa e adesso ancora di più. Vogliamo anche far capire alle nuove generazioni di donne che quello che hanno viene da lotte e che quindi devono tenerci e tenersi stretti i loro diritti, ma devono anche diffonderli e accrescerli in un periodo difficile. Già allora ci siamo occupati della violenza contro le donne e le cose purtroppo non sono cambiate, anzi si sono aggravate perché c'è questo femminicidio che oramai è insostenibile da uomini e da donne. Collaboriamo con tante istituzioni, con le istituzioni comuni, con molti enti, molte associazioni e dobbiamo dire un grande grazie anche a loro perché insieme a noi siamo tutte più forti. Partecipiamo alla rete antiviolenza, abbiamo uno sportello di aiuto alle donne con un numero di telefono che le donne chiamano e devono continuare a chiamare per essere certe che dall'altra parte è una mano tesa che senza giudicarle le aiuta e orienta e sostiene. Andiamo nelle scuole, collaboriamo con la Fondazione Scienze per la Vita che ci mette anche a disposizione professori universitari e competenze. Abbiamo con noi la dottoressa Lorefice che nelle scuole porta la sua competenza per dei progetti importanti e vogliamo proseguire per questa strada. Domani abbiamo un'iniziativa, questa iniziativa prende come emblema una donna che è Nilde Iotti a cui dobbiamo la nostra Costituzione e tante battaglie per il diritto di famiglia e altro. Domani ci sarà la direttrice della Fondazione Nilde Iotti e insieme vedremo un docufilm importante con tanti pezzi inediti della vita e dell'impegno politico di Nilde Iotti. Ci vogliamo, vogliamo quest'anno dedicare, questo anno proprio alle figure di donne che hanno fatto la storia e ci hanno ispirato anche nel nostro cammino.